cambiare la natura lucio neoseneca 4 avanti cristo 65 dopo cristo in epistole dice cambiare la natura è difficile cosa e non è lecito convertire gli elementi insieme costituiti fin dalla nascita ma la conoscenza giovane è proibire quelle cose che possono eccitare i vizi naturali per esempio nell'interdire ai caratteri infiammabili il vino quello che platone vuole proibito ai bambini per non attizzare fuoco con fuoco simili temperamenti debbono pure evitare l'accesso del cibo e la i giochi saranno vantaggiosi perché un misurato piacere calma e tempera gli animi le costituzioni linfatiche non sono soggette alla collera ma ai vizi peggiori come la paura lo sconforto la disperazione la diffidenza bisogna dunque sollevare tali caratteri trattarli con benevolenza e stimolarli alla gioia commento la natura dell'uomo non si cambia con la mente ma con l'ampliamento del sentire